Come promesso, eccoci qui con l'analisi della monografia di Bong Joon-ho prima di visionare il suo ultimo film, Okja, presentato in concorso al Festival di Cannes 70. Criticato, fischiato, osteggiato non solo per la polemica Netflix mossa dal Modo Var, riguardo al fatto che film prodotti da Netflix quest'anno ce ne erano ben due in concorso, ovvero Okja di Bong Joon-ho e The Mayor of the Stories, che noi vedremo verso agosto, pare, ovvero il film di Noah Bamberg, l'ultimo film dei grandi Noah Bamberg. La polemica mossa del Mondo Var riguardava il fatto che questi film non sarebbero potuti essere messi in concorso perché non erano film pensati per sale cinematografiche, in realtà sono film pensati per sale cinematografiche, il problema è che Netflix non consente ai suoi film di uscire in sale cinematografiche e di uscire direttamente su tutti i servizi di streaming a pagamento, appunto, di Netflix. Ma, bando queste polemiche, iniziamo con l'analizzare la filmografia di Bong Joon-ho prima della realizzazione di Okja e della visione che questa sera dedicheremo a Okja di Bong Joon-ho, il suo ultimo film, che attendiamo molto di vedere. Allora, Bong Joon-ho è amico fraterno di Park Chan-wook, maestro del cinema coreano contemporaneo, basti pensare al regista della trilogia della Vendetta, quindi di Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta, che gli hanno dato il successo internazionale, facendo anche vincere a Old Boy il Grand Prix della giuria al Festival di Cannes del 2004, dove invece vinse il miglior film, Fahrenheit 9-11 di Michael Moore. Park Chan-wook, regista poi di Thirsty, regista più recentemente dell'americano Stalker, prodotto dall'America, ma direttamente da lui, con protagonista Mio Mosikoska e Nicole Kidman, e poi regista di Mademoiselle, The Handmaiden, presentato allo scorso Festival di Cannes, Festival di Cannes 69. Allora, Park Chan-wook, attraverso i suoi film, racconta l'essere umano nei suoi estremismi di male, nei suoi estremismi di cattiveria, nei suoi estremismi appunto di vendetta come motore massimo, vendetta come motore massimo della conduzione del movimento di ragione dell'essere umano, su tutti attraverso i tre episodi della trilogia della Vendetta, ma molto anche per esempio in Mademoiselle, molto in Stalker, ha alla base comunque un sentimento di vendetta che emerge. Quindi raccontare con questa chiave di thriller, con questa chiave di, certamente, cinema orientale, cinema coreano nel dettaglio che deve mettere alla luce i problemi del proprio paese, però raccontare più l'essere umano nella sua essenza. A differenza di Kinky Duke, in parer mio l'assoluto maestro del cinema coreano, e uno dei maestri assoluti del cinema orientale, che invece racconta ogni volta storie ambientate nel proprio paese, analizzando i problemi del proprio paese, attraverso invece l'analisi introspettiva dei suoi personaggi, dei personaggi che popolano i vari contesti, dei personaggi che popolano talvolta i mondi stessi, che sono racchiusi nella Corea, attraverso cui lui si concentra con questo stile molto sporco, questo stile molto rurale, questo stile molto discontinuo nella realizzazione, ma che ogni volta è di fortissimo impatto, e di fortissima e massima analisi sociopolitica, attraverso i personaggi che lui imbastisce, e che racconta cercando con la macchina da presa il suo cinema. Ecco, lui è uno che lavora molto come Pasolini, che cercava il suo cinema con la macchina da presa, o più recentemente come Garrone in Italia, che il suo film lo cerca attraverso le movenze della macchina da presa. Chiaramente con i racconti ha fatto un altro tipo di operazione, ma ha cercato i suoi film con Gomorra, ha cercato i suoi film con l'Imbalsamatore, ha cercato i suoi film anche con Primo Amore Reality. Stando a questo, però, invece, Bong Joon-ho lavora in modo molto più simile a Parcheon Book. Innanzitutto risponde ad un certo tipo di commercialità più vicina al lavoro che fa, perché comunque i suoi film sono pensati per un grande pubblico, sono pensati per essere film di spettacolo, film che possano sfruttare in realtà anche un genere per farne delle chiavi rivoluzionari, delle chiavi molto interessanti. Raccontare con lo spirito dell'avventura, lo spirito della passione del racconto, lo spirito di un'epopea vissuta come novella ottocentesca, come romanzo di Jules Verne, o come romanzo di H.G. Wells, con te probabilmente qualcosa che riesca a creare il vero senso di seguire l'avventura, il vero senso di seguire le gesta di una storia per arrivare alla fine ad un messaggio particolare che si vuole dare molto spesso con la chiave di un genere. Su tutti, la fantascienza. La fantascienza è permeante nel cinema di Bong Joon-ho, benché i suoi film realizzati secondo questo genere siano tre. Uno è The Host, uno è Snowpiercer, e uno è l'ultimo, Ogja, che vedremo presto, vedremo questa sera. Gli altri due film realizzati da Bong Joon-ho sono Mysteries of Murder e Mother. Allora, Mysteries of Murder è un film eccezionale, il primo film dove Bong Joon-ho riesce a far vedere tutto il suo talento, ne aveva realizzato un altro non diffuso su scala internazionale. Mysteries of Murder è il primo film diffuso su scala internazionale, ed è un film bellissimo. È un film che sfrutta il thriller, il giallo e il noir come generi, li mischia tutti insieme e crea una storia che riesce ad essere esattamente come i film di Parjan Book, spirito di cardine di racconto dei sentimenti di un personaggio che va a condurre, va a condurre secondo la sua logica, un diagramma preciso, una precisa linea narrativa che porta avanti la narrazione. Ecco, attraverso questa linea narrativa che viene portata avanti dalla narrazione, i due detective del film, conducendo l'indagine, arrivano quasi ad indagare su questo discorso, ad indagare attraverso il genere, attraverso la passione che il genere conferisce, ovvero la passione di voler vedere la scoperta del caso, voler vedere come i due detective condurranno l'indagine per arrivare a tutto questo. Tutto questo mondo viene utilizzato da Bong Joon-ho per raccontare il suo stesso paese, per raccontare la Corea e per raccontare i personaggi che la popolano, i personaggi che ci vivono, attraverso una pura logica di genere, con un film che mischia insieme, appunto, noir, poliziesco, giallo e thriller. E per quanto sporco in quello che mostra, per quanto sporco quello che fa vedere, per quanto sporco sia effettivamente il mondo che racconta, Bong Joon-ho lo fa con una pulizia totale. La pulizia dell'immagine, la classicità dell'immagine di Bong Joon-ho è qualcosa di unico nel cinema coreano contemporaneo. È una cosa che ovviamente non riguarda Kinky-duk perché ha tutt'altro stile di regia, che io personalmente preferisco, ma l'apprezzabilità in quello che fa Bong Joon-ho deriva proprio anche da questo, da raccontare in maniera pulita, in maniera internazionale quello che fa. Ecco, qui secondo me sta la sua forza, non nell'essere un regista coreano che applica in maniera egregia uno stile che riguarda classicamente il suo paese, ma nell'andare oltre questa cosa, oltre non da un certo tipo di miglioria, chiaramente, non stiamo parlando di cose migliori, stiamo parlando di andare oltre, nel senso di raccontarci con uno stile che nei concentrati, nei significati, in quello che racconta, non è assolutamente internazionale, è puramente orientale, ma nel modo in cui lo inquadra, nel modo in cui lo riprende, nel modo in cui decide di suddividere la sua fotografia, è qualcosa di molto più internazionale, qualcosa che permette al proprio paese di essere visto su una scala internazionale avendo nei contenuti e nel concetto qualcosa di totalmente locale per lui. Ecco, questa è la forza di Bong Joon-ho all'interno del suo cinema. E paradossalmente, Giacomo, Mysteries of Murder, nella sporcizia che mostra, in quello che fa vedere attraverso questo film, che attraverso questi generi si racconta in un appassionante saga, in realtà suddivisa in un film solo, il tutto viene visto con una pulizia assoluta, con una maestria e una classicità nelle immagini che richiamano più il cinema di Akira Kurosawa, parlando dell'Oriente. Akira Kurosawa, maestro assoluto del cinema giapponese e in parer mio, miglior regista del cinema, mai esistito in assoluto. Allora, a questo punto, Bong Joon-ho ha delle strade da prendere. Dopo Mysteries of Murder realizzerà altri tre film, ovvero Mother, girato in patria, un film che secondo me personalmente è il minore, qualcuno lo ritiene il migliore, ma Mother è un film che risponde molto alle logiche di Parcianbuk, è un film molto più vicino a Parcianbuk, potrebbe averlo girato anche Parcianbuk. È un film dove Bong Joon-ho mette del suo, ma fa una grande cosa locale, non va a sfruttare lo stile che aveva invece regalato già con Mysteries of Murder dove riusciva a parlare generalmente del proprio paese attraverso una storia appassionante di genere, diffondendola in modo così classico, in modo così pulito a livello internazionale. Ecco, questa cosa la fa in maniera super spiccata con i suoi due film successivi. The Host, che personalmente è attualmente il mio preferito della sua filmografia, film dove va a trattare il tema di un monster movie. Il film si basa sull'invasione di questo mostro che si forma attraverso dei mutamenti chimici per colpa dei laboratori chimici in Corea che svuotano delle sostanze per volontà tra l'altro fantastico di un dottore americano e non di un dottore coreano all'interno dei mari e attraverso i mari la mutazione genetica avviene e nasce questo mostro, questa creatura che nel delirio che va a creare nella città rapisce una serie di persone tra cui la bambina, la figlia di quest'uomo. Quest'uomo insieme a parte della sua famiglia sconclusionata, sgangherata, grottesca, decide di andare a cercare la bambina e conduce un viaggio interminabile per la città per arrivare dal mostro sconfiggerlo e salvare la bambina. Ecco, una classica trama da monster movie ma come la gestisce Bong Joon-ho? Bong Joon-ho la gestisce con una genialità cinematografica che è pura, è puro cinema, la spettacolarità di quello che vedi, le gesta che osservi di queste persone, il fatto di come lui caratterizzi questi singoli personaggi nella reazione che ognuno di loro ha, nell'obiettivo che ognuno di loro ha per andare a salvare questa bambina, l'obiettivo che loro ha nello stesso tempo è caratterizzare la bambina nella sua trappola, caratterizzare la bambina con l'altro bambino che è stato rapito e che è presente nella trappola del mostro, caratterizzare loro due nella loro sopravvivenza, far vedere contemporaneamente la situazione sociale che si sta creando all'interno del paese e politica anche perché da questa mutazione genetica derivano anche delle colpe dello stesso paese e delle ingenuità del paese che prova a medicare troppo tardi, però questo paese prova a medicare troppo tardi quello che è accaduto in questa invasione di questo mostro che effettivamente sta conducendo la propria natura, non sta facendo altro che conduca la propria natura ma è un danno per invece le persone che stanno affrontando questa questione. Ecco, in un soggetto originale di Bo Jun Ho che veramente riesce con una classica trama da monster movie a costruire un film che è eccezionale sotto ogni punto di vista cinematografico, la scrittura non è mai banale, quello che osservi ti coinvolge sempre a livello emotivo e ti coinvolge sempre a livello di puro cinema sei seduto a guardare qualcosa che capisci essere cinema assoluto, essere qualcosa che sfrutta il genere, sfrutta la spettacolarità per fare vero cinema e non stiamo parlando di Spielberg, stiamo parlando di pura autorialità, stiamo parlando di pura genialità cinematografica e questo però fa sempre vedere uno sguardo in più comunque del cinema orientale in tutto questo, fa comunque vedere che benché sia suddiviso a livello internazionale e si respiri veramente un'aria totalmente internazionale in quello che vedi, comunque il genio orientale si sente sempre, lo sguardo in più dell'oriente rispetto a quello più becero americano classico si vede costantemente, si vede costantemente la magia del cinema orientale che traspira in ogni poro da ogni singola inquadratura di questo meraviglioso film di Bong Joon-ho, un capolavoro di genere assolutamente, The Host e per adesso il film suo che preferisco e forse anche il migliore forse perché in realtà quello che dovremmo considerare il migliore è proprio Snowpiercer Snowpiercer film con cui Bong Joon-ho decide di approdare totalmente nel cinema americano prende attori americani e due attori asiatici che faranno dei camei due attori tra l'altro molto popolari in patria già utilizzati a livello internazionale ma che Bong Joon-ho sfrutta in una maniera molto particolare trae la trama da questo fumetto graphic novel francese che racconta di un futuro alla Wells dove l'intera umanità è suddivisa in un treno l'intera umanità viaggia su questo treno dopo una glaciazione globale che ha distrutto tutto il mondo e ha quindi inglobato il mondo in questa sfera ghiacciata tutte le persone sono state messe su questo treno tutti sopravvissuti questo treno è suddiviso in una serie di binari e nel binario che sta nella sezione di coda nella massima sezione di coda del treno ci stanno i poveri i raietti gli schiavizzati gli operai che si cibano di questa gelatina nera che poi scopriremo cos'è all'interno del film mentre nella sezione massima sta Wilford sta il pilota del treno sta il il guidatore di questa ferrovia che è stato anche creatore di questa ferrovia e solo conquistando il ruolo di Wilford può conquistare il potere assoluto quindi una scalata al potere che viene condotta dai personaggi all'interno del film il protagonista Chris Evans poi abbiamo Jamie Bell interpreta all'epoca di Billy Elliot abbiamo John Hart il vecchio mentor del gruppo abbiamo Octavia Spencer abbiamo tutti i membri di questo gruppo di persone povere che si avventura di vagone in vagone di vagone in vagone la situazione inizia sempre di più a cambiare dalla povertà massima e si arriva alla borghesia per poi arrivare alla massima ricchezza alla massima nobiltà al sistema totalitario che governa il treno tutto questo viene condotto con una tecnica quasi da videogame passare di vagone in vagone passare di porta in porta per arrivare all'obiettivo di conquistare il potere di Wilford e tutto diventa un'analisi sociopolitica incredibile tutto diventa un'analisi appassionante dove chiarisce al massimo Bo Jun Ho che con la tattica da epopea riesce ad escrivere di passaggio in passaggio il progredire di una società il progredire di un mondo che dalla massima povertà scala dalla massima povertà vuole sempre di più per arrivare alla borghesia e salvaguardare il proprio benessere domandandosi a un certo punto che cos'è la vera questione importante di questo mondo per che cosa stanno combattendo esattamente per sentirsi meglio loro o perché vogliono una sorta di vendetta o perché vogliono raggiungere il massimo del potere capitalista che in realtà li ha inglobati anche loro in quello che li ha fatto credere da lontano che ci fosse come felicità è una riscossa dei sottoproletari verso la borghesia più alta sia vista come desiderio sia vista come vendetta e Bong Joon-ho tutto questo lo racconta in un sottotesto incredibile tratto da questo fumetto ma a livello di cinematografia incredibile dove tutto il film è inventato su questo treno e i vari mondi che in questo film vedi sono in realtà in uno stesso luogo lo stesso luogo che tu vedi è rappresentante di molti mondi molti mondi che aiutano la narrazione ad essere condotta oltre al fatto che questo film ha per adesso la miglior Tilda Swinton secondo me è vista su uno schermo televisivo che è riuscito al ruolo del ministro Mason ambasciatrice ufficiale consigliera di Wilford che si occupa di andare nelle sezioni di coda e parlare alle persone relativamente alla loro condizione sociale esprimendo tutta la sua autorità una sorta di Goebbels della situazione potremmo definirla con questi denti finti la pelle curatissima occhiali sgargianti e aspetto con cui camuffa la sua stessa posizione la sua stessa immagine il personaggio del ministro Mason ministro Mason che in un discorso assolutamente magnifico e totalitario paragona gli operai alle scarpe dicendo le scarpe dove devono stare devono essere messe ai piedi non posso mettere in testa le scarpe se mi mettessi in testa le scarpe non sarebbe più funzionale il procedimento che io vorrei adottare nei vostri confronti perché voi siete stati creati per essere scarpe e quindi rispettate la vostra posizione e rimanete scarpe ma Chris Evans Jamie Bell John Hart nessuno di loro vuole rimanere una scarpa e dalle scarpe loro vogliono salire sempre di più sul corpo dei grandi borghesi per arrivare fino alla loro testa rappresentata nella cabina del treno e rappresentata da Wilford un film sensazionale uno dei migliori film di fantascienza degli ultimi anni uno dei migliori film del panorama coreano degli ultimi anni soprattutto perché in questa estesa massima che crea a livello internazionale fa sentire tutta una traspirazione che ci può essere del cinema orientale sul mondo che veramente diviene massima fonte di diffusione di un cinema che è grandissimo di un cinema di un cinema che non è solamente un cinema di nicchia per un pubblico di appassionati come può essere quello di Kinky Duke che noi amiamo stimiamo adoriamo ma che da molti non è compreso da molti non è valutato Bong Joon-ho invece riesce alla grandezza di diffondersi attraverso il genere attraverso la sua logica massima che diventa sempre logica orientale che si diffonde in cinema internazionale per poter far vedere il suo massimo talento e la sua massima arte a tutto il mondo con film massimi come The Host e come Snowpiercer stiamo per vedere questo Ogja Ogja una trama originale di Bong Joon-ho come The Host questa sembra essere ancora più originale perché sfrutta una tematica molto importante della modernità che viene estremizzata in un futuro esattamente come Snowpiercer in un futuro nichilista dove però attraverso l'epopea attraverso l'avventura attraverso le gesta dei personaggi vuole condurre una critica terribile alla società potrebbe riuscirci sì potrebbe riuscirci potrebbe fare grandi cose con un cast eccezionale nel cast abbiamo la stessa Tilda Swinton che anche qui interpreta l'antagonista qui l'antagonista addirittura principale l'antagonista massimo ovvero l'interprete di Wilford all'interno di Snowpiercer è un mistero rivelare chi è non si può rivelare chi è e quando lo si scopre è qualcosa di grandioso omaggi tra l'altro Snowpiercer anche a Kubrick in una scena intera dove vengono fatti tre omaggi a Kubrick insieme da Gancia Meccanica a 2001 e a Shining con l'utilizzo di quello che vedi in scena con le scenografie e con la musica che viene messa in sottofondo e che proviene da un grammofono una cosa eccezionale comunque sia Bong Joon-ho può regalarci qualcosa di altrettanto grandioso con questo Ogja presentato in concorso al Festival di Cannes nel cast Paul Dano nel cast appunto La Granity da Swinton nel cast Giancarlo Esposito nel cast Lily Collins veramente dei grandiosi interpreti che non vediamo l'ora di vedere in questo film di Bong Joon-ho in questa sua nuova opera vi faremo una recensione io e l'ospite speciale di questa sera e poi la caricheremo a caldo dopo aver fatto il commento a caldo dopo la visione di Ogja che visioneremo questa sera su Netflix è uscito oggi ovvero mercoledì 28 giugno 2017 perfetto signore e signori spero di avervi fatto comprendere la figura di Bong Joon-ho se non la conoscevate o se la conoscevate ve l'aveva fatta approfondire con questo video che ha voluto introdurlo prima di visionare il suo film Ogja quindi vi do appuntamento alla recensione a caldo di Ogja ciao a tutti ragazzi grazie grazie a tutti